Allora abbiamo già usato i ragionamenti di simmetria e la legge di Gauss per dimostrare che in mezzo a due piastre parallele dove sulle due piazze c'è una distribuzione di carica uniforme superficiale, una caricata positivamente e l'altra caricata negativamente, abbiamo usato ragionamento di simmetria per concludere che il campo elettrico qua in mezzo è uniforme. Va dalla castra positiva alla negativa, quindi chiamo quella direzione all'asse x e y e lo stesso disegno e l'asse z è solo avanti. Quindi sappiamo che il campo è uniforme, analogamente come era uniforme alla forza peso, la scriviamo come E0 U di x, certo che E0 è sigma 0, dove sigma 0 è la densità superficiale della carica che ho piazzato su due cariche. Ma voglio che voi notiate la forte analogia tra questa formula qua e quella che è in alto. Qua ovviamente c'è la differenza, qual è la forza questo campo elettrico? Quello del sistema internazionale si esprime in newton, questo si esprime in volsometro non solo la stessa cosa, ma matematicamente è la stessa pappa. Questo è un campo vettoriale che è uniforme e punta alla direzione x. Questo è un campo vettoriale che è uniforme, uniforme in che senso? che non dipende da x, y, z è sempre la stessa freccia, sia come modulo che come direzione. Quindi, come questo, la formula qua, nel contesto della forza, era che la forza è uguale a meno il gradiente U qua il contesto è che il campo elettrico, elettrostatico, è uguale a meno il gradiente U in questo contesto, visto che la f non dipende da x, la U dipenderà solo da x non dipenderà né da y né da z, perché? Perché quando io mi sposto nella direzione y o z non faccio lavoro, l'integrale curvilineo per spostamenti, lavoro, lasciamo perdere la parola lavoro quando io mi sposto, calcolo l'integrale curvilineo in movimenti orizzontali o escenti dalla lavagna l'integrale curvilineo è zero, solo quando mi sposto nella direzione della forza l'integrale curvilineo è diverso da zero, d'accordo? Quindi, cos'era? Andando da A a B, l'integrale curvilineo di una forza A a B quello era uguale a UA-B, quindi io ho differenze solo quando cambio la x e vedete che la U quindi dipende solo da x, stesso discorso qua Ora, se io vado da questo punto a questo punto e faccio l'integrale curvilineo così non avrò valore nullo, perché lo spostamento è nella direzione y ma il campo elettrico è nella direzione x avrò un integrale curvilineo diverso da zero solo se mi sposto nella direzione x l'integrale curvilineo se ne frega di spostamenti in y e in z gli interessa solo spostamenti in x quindi la V, e non dovete dimenticare che l'integrale curvilineo di E da un punto A a un punto B è uguale a VA-VB, quello che sto scrivendo è la stessa cosa che sostituirei F con U qua quindi quando mi sposto nella direzione x allora ho una variazione di U quando mi sposto nella direzione y e lo z non ho niente quindi deduco da questo che questa V dipende solo da x D'accordo? E come dipende da x? Beh, il modo in cui dipende da x deve essere tale che quando vado a fare la derivata di V dipendendo solo da x, allora tutto il concetto di gradiente si riduce alla derivata quindi il campo elettrico uguale a meno il gradiente di V si traduce in questo problema che dipende da dove V dipende solo da x nel dire che è uguale a meno la derivata ordinaria di V rispetto a x e questo deve essere E0 che è una costante e l'unica funzione che è derivata da una costante è una retta quindi la V è una retta con quale pendenza? con la pendenza negativa perché la pendenza è negativa? in ultima analisi perché ho messo la direzione positiva della x in basso e il mio campo elettrico la mettevo in quella direzione è lo stesso discorso se avete capito quello dovreste essere in grado di capire questo è identico matematicamente fisicamente è diverso o matematicamente è equivalente e quindi il grafico è questo e quindi in un certo punto vi chiedo qual è il gradiente? è una freccina che punta a salire e il campo elettrico è una freccina che punta a scendere il fatto che è una retta vuol dire che queste frecce sono uguali in qualsiasi punto io scelgo a lungo la x il gradiente è sempre la stessa la pendenza di una retta è uguale dappertutto è una retta e quindi il campo elettrico è uguale dappertutto lo sappiamo perché abbiamo fatto l'argomento usando le simmetrie e la legge di Gauss quindi questo è un luogo di punti che hanno tutti lo stesso valore di v perché? perché tutti questi punti che stanno non solo sulla retta ma dovete pensare alla retta come l'intersezione di un piano con la lavagna tutti questi punti hanno lo stesso valore di x quindi hanno lo stesso valore di v v stesso discorso di ra allora questo è un piano non vi pare? questo è un piano non vi pare? quindi anche questi punti hanno lo stesso valore di v v si esprime nel sistema internazionale in volt quindi io metterò dei numeri per esempio assegno questo qua facciamo 700 volt cioè tutti i punti che sono su questo piano qua hanno un certo numero di volt come tutti questi punti qua avevano una certa energia 100 joule questo è un altro piano avranno tutti i punti del piano hanno lo stesso potenziale elettrostatico quindi metto che so 200 volt adesso io vi chiedo rifaccio questo grafico ma lo faccio qua chiamiamolo che so questo x uguale a 0 metto l'origine qua tanto per è una scelta che posso fare no? questo lo chiamo x questo lo chiamo y e questo è l'origine quindi questo piano ha x uguale a 0 va bene? e questo piano ha un x che è data dalla distanza tra i piani chiamiamola la distanza tra i piani che so chiamiamola d la distanza d tra i piani va bene? d è la distanza tra i piani quindi la coordinata x di questo piano è d quindi questo è v di x in funzione di x quando x è uguale a 0 ho messo 700 volt quando x è uguale a d è uguale a 200 volt quindi facciamo che sia così ok? questo valore è questo valore noi sappiamo già che da qua a qua va dritto è una retta ok? è una retta tra l'altro ed è bene che io lo dica anche già adesso perché se no le cose che ho fatto l'altro giorno sono entrate all'orecchio rimangono là hanno un tempo caratteristico di ricadimento esponenziale molto corto e quindi se io non continuo a pompare con sollecitazioni l'informazione muore no? c'è un altro ragionamento molto elegante per dire che qua dentro anche se... lo chiedo questo ha preso un brutto voto è stato mollato da moroso come facciamo a sapere che qua dentro il campo elettrico è uniforme? che il potenziale quindi è una retta abbiamo usato dei ragionamenti di simmetria e la legge di Gauss giusto? c'è un altro modo per convincere che qua dentro il potenziale deve essere una retta e quindi il campo elettrico deve essere una costante perché se è una retta facendo le derivate che viene a disegno ho una costante avrai una costante solo se questa è una retta questo d'accordo ma come fate a convincere che è una retta? c'è un altro modo molto elegante dove sono le cariche qua? le cariche sono qua qua in mezzo non c'è niente questo è vuoto le cariche sono qua vuoto cosa vuol dire? che in questo punto ρ vale 0 in questo punto la densità h vale 0 in questo punto la densità vale 0 quindi qua dentro quale legge vale? la legge di Laplace la legge di Laplace quindi cos'è la legge di Laplace? in generale con la scrittura da incrociatore Popchionkin la legge di Laplace è questo ma noi per un ragionamento abbastanza semplice di simmetria senza invocare Gauss semplicemente di simmetria riesco a immaginare che qua il potenziale dipenda solo da x e quindi questa equazione con tutta la sua cosa è il Laplace in realtà si semplifica a diventare la derivata seconda di v rispetto a x uguale a 0 perchè il Laplace in coordinate cartesiane in coordinate cartesiane x, y, z è la derivata seconda rispetto a x più la derivata seconda rispetto a y più la derivata seconda rispetto a z quando la funzione v dipende solo da x non parlate più dei derivati parziali e fate spesso di una derivata ordinaria quindi Laplace si riduce in questo tipo di esercizio la derivata seconda di v rispetto a x allora qua dentro non essendoci cariche deve essere che il potenziale qua il potenziale rettostatico deve avere derivata seconda 0 quindi qual'è l'interpretazione della derivata seconda? passo indietro qual'è l'interpretazione della derivata prima di una studio di funzione f di x la derivata prima è la tangente è la tendenza della retta tangente e la derivata seconda cos'è? credo che voi in Italia lo chiamiate la conversità giusto? giusto? quello vi sta dicendo che la funzione che deve valere qua dentro per Laplace non deve essere complesso deve avere connessità 0 e quale funzione che collega questo punto a questo punto a questo punto quale funzione l'unica tipo di funzione che può collegare questa funzione a quel punto e a quel punto è la retta questa qua non può andare bene questa ha una conversità negativa questa è una conversità positiva non vanno bene perché non vanno bene? perché non so dire solo Laplace Laplace richiede che qua dentro dove non ci sono carichi deve andare dritto ecco che io deduco solo dalla Laplace che il campo elettrico da dentro deve essere costante perché se avesse conversità non sarebbe un campo il campo elettrico costante quindi non può essere convesso perché qua dentro non ci sono carichi vedete? è un ragionamento elegante in 30 secondi si fa invece con il ragionamento di simmetria alle vertine di Gauss eccetera uno impiega un po' di tempo quale chiederò? tutte e due e chiederò anche il ragionamento base che era questo questo è il ragionamento base che vi ho appena fatto che v dipenderà solo da x in maniera lineare perché con un campo eccetera eccetera sto farfugando qualcosa rimettiamoci in careggiata quindi è questo l'andamento non vi pare? adesso domanda dorale domanda dorale il professore disegnerà le piastre poi farà così qui senza guardare la lavagna quel punto là questo punto qua questo punto qua voglio che voi mi diciate il valore di v in quei tre punti stimatela fate un tentativo intelligente di assegnare a questo punto e a questo punto dei volt cosa fate? qua è settecento qua è duecento la funzione cambia linearmente quindi cosa fate? prendete un righello tirate una linea e dite qua è settecento qua è duecento quindi vuol dire che se io divido questo segmento in cinque tacche tutte uguali allora di tacche in tacche parirà di cento cento volt quindi cerco di fare cinque tacche uguali magari mi riesce più un colpo la metà è qua quindi questo sarà circa due e mezzo e questo sarà due e tre vediamo se riesco a farlo uno due tre no troppo grande uno proviamo così uno due tre accettabile accettabile ok? voi con i vostri fogli e quadratili dove avete scritto dovete essere un po' più precisi quindi tutti questi punti qua hanno lo stesso potenziale certo perché non dipende da y e da z tutti questi punti hanno lo stesso potenziale tutti questi punti hanno lo stesso potenziale tutti questi punti ovviamente bisogna farlo bene adesso sto affetto da errori di paralasse quindi il disegno lo sto buttando alle ortiche ma cercate di capire il senso di come sto facendo quindi siccome cambia linearmente da 200 a 700 muovendomi in questa direzione questo sarà 300 400 500 600 ed ecco che comincio ad essere in grado di assegnare dei numeri questo qua è superiore 300 se questo è 350 questo sarà che so 330 è una ragionevole stima? con la precisione del disegno della lavagna? sì questo punto sarà 440 questo punto cosa potrebbe essere 500 e 50 ok cosa? metti sul livello del mare? no volt d'accordo? d'accordo? allora questo è il piano positivo questo è il piano negativo il campo elettrico verso il basso supponete che io lanci una particella positiva in questa direzione una particella positiva quindi lui sente una forza in che direzione? se Q è maggiore di 0 lui sente una forza verso il basso e la forza che si tirà è uniforme quindi quando lancio la mia particella carica lui farà una traiettoria parabolica respinto dal piano sotto tra l'altro dal piano sopra esattamente è una parabola parabolica come questa qua perchè la forza sarebbe Q è 0 x è una forza uniforme verso il basso dovete sapere dimostrare che è una parabola è una parabola fa un volo così e immaginate che questo punto qua l'ha chiamato il punto A e questo è il punto B questo è un 5 qua sposto il numero questo punto A che sta a 300 volt il punto B sta a 500 volt lancio la parabola dal punto A al punto B e chiedo qual è la variazione di energia cinetica? poi cosa fate? vedete KV meno KA uguale UA meno UV ma U cos'è? qual è il legame tra U e V? cioè la particella qui la particella carica Q magari la faccio in un colore blu la particella era qua poi me la trovo qua sta volando magari si trova in questa posizione per il fatto di trovarsi lì lui ha un'energia di posizione ma che energia posizione ha? l'energia di posizione l'energia di posizione U è uguale a Q per V dove V è il valore del potenziale elettrostatico nel punto dove piazzate la carica e Q e la carica avete piazzato lì quindi lo riscrivo come eccola qua quindi quindi la U l'energia di posizione energia di posizione che la gente normalmente posizione che la gente normalmente chiama energia potenziale a me piace l'espressione energia di posizione perchè enfatizza che dipende da x,y,z eccetera dipende da dove siete l'energia di posizione o potenziale di una carica Q piccolo è messa in un certo punto dello spazio è il valore della carica della particella messa in quel punto per il potenziale elettrostatico in quel punto creato da sorgenti altrove d'accordo? quindi in questo punto che energia potenziale ha? in questo punto qua magari lo salgo un po' così è uguale proprio a questo livello qui e in questo punto qual è l'energia potenziale in quel punto? sarà Q per 550 volt quindi l'esercizio assumerà un valore numerico se parlo della carica se assegno un valore a Q no? d'accordo? quindi se Q per esempio fosse di un coulomb che è una quantità spaventosa di carica quanti elettroni stanno in un coulomb? ve l'ho già chiesto ho finito saperlo all'orale una carica un elettrone ha una carica di 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb quante ve ne servono per fare un coulomb? sappiate almeno farla supponiamo che la carica sia 2 per 10 alla meno 19 arrotondate no? poi diminuite del cosa ok? supponete che sia 2 per 10 alla meno 19 quante ve ne servono per fare un coulomb? sono tanti d'accordo? d'accordo? quindi se questa carica ha una carica di 1 coulomb e si trova in un punto dove il potenziale vale 550 volt quanti joule sono? 550 joule! giusto si deve dire? allora supponiamo che invece di questa bestia sia di 1 coulomb ma non supponiamo che sia un protone intanto scriviamo la formula quindi così andiamo avanti quindi scrivo di nuovo KB-KA è uguale a Q VA-VB questa è la formula questa è la formula qua tra che te ok? cioè sto usando questa qua questo è quello che va tatuato sul corpo voi dovete sapere usare quindi usandola questo diventa la variazione di energia cinetica shhh allora facciamo un esempio di un protone un protone è lanciato farà una parabola così e il protone io chiedo la variazione di energia cinetica quindi qual è la carica di un protone per il caso che la carica del protone sia uguale a più 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb questo conto diventa cosa? faccio un po' di spazio questo posso cancellarlo ma in questo caso qual è VA? VA è 330 e B è 500 quindi qual è la differenza aspetta no era 300 quindi qual è la differenza guardate in linguaggio qual è la differenza di potenziale che si intende tra questo punto e questo punto sono 200 volt questo ha 200 volt più di questo punto ok? differenza di potenziale strana e quindi ma questo è VA meno VB quindi ho 300 meno 500 quindi ho 300 volt meno 500 scriviamo così per cortesia ok? quindi questi sono ovviamente vedete meno 200 volt quindi vedete che è un certo numero di cosa? se voi fate il conto se questo è cos'è 2 per 1? se questo fosse 1,5 per 2 fa 3,5 giusto? quindi questo è circa 3,5 per cosa? questo è 10 alla 2 quindi questo diventa per 10 alla meno 17 cosa? Joule! Nel sistema internazionale le cariche si misurano in Coulomb questo si misura in Volt questo si misura in Joule quindi quelli sono giallo la differenza di energia cinetica tra questo punto non ne distribuo più perchè questo blu questo qua mi confonde ecco qua questo punto mi sta quindi cosa vi sta dicendo questo? che il protone perde energia cinetica ne aveva una certa quantità qua ne ha meno quando è qua avendo un'energia cinetica inferiore vedete che è negativo vuol dire che lo speed è più basso qui d'accordo? in questo punto non avrebbe esattamente la stessa energia cinetica in un punto più giù non mi sono dato lo spazio in questo punto avrebbe un'energia cinetica superiore a questo è la stessa interpretazione del grafico di prima se capite il sasso che vola capite il protone che vola allora vedete che è un numero piccolo in ultima analisi perchè è piccolo? è piccolo perchè la carica del protone è piccola perchè il coulomb è un'unità di misura antropomorfa è tanta carica e tante cariche per far muovere palloncini no? la carica la corrente che esce da un muro per far funzionare i motori che gli ingegneri elettrici riescono a costruire con l'aiuto di meccanici hanno bisogno di ampere per funzionare quindi noi nel nostro mondo nella nostra vita quotidiana negli oggetti negli aggetti tecnologici abbiamo bisogno di tanti elettroni che fluiscono al secondo ma la fisica particellare che spara un elettrone e un protone si è inventato un'unità di misura di energia utile guardate questa formula qua ve lo spiega si chiama l'elettron volt non è? allora ovviamente dovete conoscere il numero e ve lo dico subito è un certo numero di joule è una misura di energia energia capirete subito perchè è così utile è una misura di energia quant'è l'elettron volt espressa nell'unità antropomorfa nei joule è questo è il valore dovete saperlo recitare l'elettron volt è l'energia cinetica che un elettrone acquisterebbe che un elettrone qual'è la carica di un elettrone quello? che un elettrone acquisterebbe nell'attraversare una differenza di potenziale di un volt cioè se voi mettete qua 1 1 volt e mettete qua la carica dell'elettrone cosa avete? avete 1,6 per 10 alla meno 19 joules chiamate quello un elettro volt ve lo ridico l'energia cinetica che un elettrone acquista che un elettrone di quella carica acquista nell'attraversare una differenza di potenziale di un volt lo vedete qua l'energia cinetica che acquista nell'attraversare una differenza di potenziale dipende dalla carica quindi se mettete la carica elementare mettete 1 elettro volt e allora il valore che abbiamo appena calcolato 3,5 per 10 almeno 17 joule quante elettro volt sono? è una puttanata perchè qua se era 300 volt e questo è 500 volt qual'è la differenza di energia cinetica tra qua e qua? sono 200 elettro volt è facile questo è uguale questo c'è un segno meno qua quindi sono meno 200 elettro volt quindi l'elettro volt è estremamente comodo perchè non dovete moltiplicare per cure per avere un numero piccolo lo vedete? se qua ci sono 500 volt e qua ci sono 300 volt c'è una differenza di potenziale 200 volt quindi un elettrone o un protone per la stessa carica nell'attraversare questa differenza di potenziale acquista 200 elettro volt in questo caso lo perde vedete che lo perde lui ha 200 elettro volt meno qua su rispetto a quello che aveva qua se il protone faceva questo genere e arrivava qua giù avrebbe avuto un certo numero di elettro volt in più d'accordo? l'elettro volt apparirà in qualche scritto? non è difficile quindi l'implicito è che dovete cominciare a padronizzarsi i numeri e ricordarnevi continuano a venire gli studenti a fare orali che non si ricordano i numeri e la cosa è un po' imbarazzante è un po' imbarazzante certo che non vi mando via ma il voto non è il massimo ricordatevi il ragionamento degli Laplace è estremamente elegante anche così uno usa questo beneditalese di Laplace allora di nuovo devo cominciare ad usare un linguaggio allora vorrei usare un linguaggio un linguaggio un po' più sofisticato lo abbiamo già fatto tanto anni fa come un'anticipazione come spesso faccio d'altrove questo sia un punto che chiameremo l'origine per fissare le idee metto degli assi x,y questo è quindi l'origine immaginate che in questo punto ci sia una carica chiamiamola q1 in questo punto ci sia una carica q2 in questo punto ci sia una carica q3 questa carica qua che si trova in questo punto qual è il vettore posizione? il vettore posizione è il vettore netto di spostamento che va dall'origine alla posizione della particella e questa la indichiamo con r1 questo è il vettore posizione della particella 2 questo è il vettore posizione della particella 3 vorrei scrivere il potenziale in un punto per esempio dove possiamo piazzare un punto? piazziamola qua in questo punto qua qual è il campo elettrico? qual è il potenziale elettrostatico? qual è il campo di coulomb? qual è il potenziale elettrostatico? questo punto dove si trova? qual è il vettore posizione di questo punto? eccolo qui questo è il vettore posizione la indichiamo con la lettera r quindi dovete ricordare che questo punto rispetto a questo sistema di assi in questa orientazione ha delle coordinate x,y,z ok? quindi la componente x di questo vettore posizione è proprio la x di questo punto la componente y di questo vettore è proprio la coordinate y di questo punto eccetera quindi come si scrive il campo elettrico? allora di nuovo guardate magari questo lo sposto un po' perchè io voglio ma va bene dai va bene va bene sto tracciando questi segmenti perchè usano quelli per scrivere la cosa qua quindi scrivo il campo elettrico nel punto p guardate cosa ho scritto ho scritto il campo elettrico funzione del vettore posizione r sta puntando a questo punto quindi devo essere molto chiaro che questo è è la stessa cosa il campo elettrico nel punto p lo scrivo così ma scrivendolo così è perchè ho fatto una scelta di avere l'origine se cambiamo l'origine i vettori posizione erano diversi e quindi x,y,z creavano quindi qua è implicito che io abbia scelto un'origine qua non l'ho ancora scelto qua sto scegliendo un'origine quindi sto usando i coordinate x,y,z quindi questo deve essere pensato come è in un certo punto dello spazio questo lo scrivo così c'è questa belletta costante elettrica che è un numero molto grande in unità internazionali questo numero come valore numerico è quasi 10 alla 10 è circa 9 per 10 alla 9 cosa? Newton metri quadri diviso Coulomb quadro è un numero grande molto grande molto più grande rispetto alla G di Newton che era circa 7 per 10 alla meno 11 cosa? Newton metri quadro su Kg quadro quindi ci sono tanti ordini di grandezza dovete calcolare quanti ordini di grandezza sono tra la forza di Coulomb e la forza di gravità non sto scherzando chi non lo sa? questo è come si scrive? si può anche scrivere così e prenderò a usare quello che sto usando adesso però dovete conoscere questa perchè appare in molti corsi successivi questo è un versore è adimensionale perchè ha una lunghezza diviso una lunghezza a modulo 1 se vi chiedo qual è il modulo di questo farete il modulo di questo diviso se stesso vale 1 è il versore che va dalla carica iesima al punto P come si può vedere guardando questo perchè questo mi dice che questa è la posizione del punto P rispetto alla carica iesima perchè chi è questo vettore qua? questo vettore per esempio disegno quello che va dalla carica 1 quindi voglio disegnare questo chi è questo? è il vettore che è questo qui lo disegno magari in arancione anzi in blu perchè l'arancione sarà il versore questo è questo vettore qua perchè sta andando io voglio andare è la posizione di questo rispetto a questo infatti io posso andare da qua a qua o andando diritto o tornando sui miei passi lungo R1 cambiando il segno di R1 e poi andando per R quindi ripasso giusto? chi è U? U di R1 U di R1 è questo qua d'accordo? quindi questo d'accordo? qual'è il potenziale? nel punto P scegliendo l'origine e gli assi diventa V nel punto X, Y, Z cos'è? quello è il potenziale? d'accordo? cosa cambierebbe se questo invece di essere una distribuzione discreta fosse una distribuzione continua? ve lo spiego questo è il punto P ecco il vettore posizione rispetto a questo punto qua questo è una distribuzione di carica è un... come l'ho chiamato? un tubero una spesa di patata di carica distribuita con una certa distribuzione Rho quindi ecco una carica qua volumetto ecco un altro volumetto ecco un altro volumetto ecco un altro volumetto qual'è il campo elettico in questo punto? beh intanto un punto ha contributo a tutti i volumetti intanto faccio delle cose del genere quindi è molto simile al disegno di là dove si trova questo volumetto? si trova? questo è il volumetto iesimo si trova nella posizione RI questo è il volumetto iesimo dove si trova? si trova nella posizione RJ d'accordo? faccio una stima scrivo il potenziale mi interessa questo nel punto P qual'è il potenziale del punto P? ovvero V nel punto R faccio una stima la stima sarà uguale userò questa formula qua quindi ho 1 su 4 pi greco epsilon 0 la somma d'olio da 1 a n dove n è il numero di scatoline quindi prendo il mio tubero e lo immagino tagliucciato in tante patate o dei lego quanti lego ne ho? dipende dalla dimensione dei volumetti che decido di usare avrò una stima più o meno buona e cosa scrivo qua? ovviamente ho il modulo del vettore posizione del punto matematico rispetto all'iesima scatola quindi quella cosa là è la distanza tra il punto P e la iesima scatola è il modulo del vettore posizione punto P rispetto alla scatola iesima nel numeratore cosa devo scrivere? devo scrivere la carica dell'iesima scatola qual'è la carica dell'iesima scatola? la carica dell'iesima scatola ovviamente tutto questo più C la carica dell'iesima scatola io la scrivo così come il volume dell'iesima scatola moltiplicato per il valore di ρ nel punto dove si trova l'iesima scatola quindi se questa è l'iesima scatola che ha un certo volume z vi io userò il valore di ρ nel punto Ri quindi la carica da segnare all'iesima scatola io scriverò così ρ nel punto iesima ρ nel punto dove si trova l'iesima scatola d'accordo? quindi qua avanti ci siamo? cosa succede quando il numero di volumetti tende all'infinito e ognuno diventa molto piccolo? cioè voglio fare l'integrale adesso e scrivo che il valore nel punto P indicato dal lettore posizione R è uguale a 1 su quanto pi greco e y0 l'integrale di che tipo? sto integrando sul volume questo è un oggetto che ha una lunghezza al cubo quindi l'integrale del triplo sul volume questo diventa il differenziale e questo diventa l'integrale quindi ho ρ guardate un attimo questo è importante questo è il vettore posizione di questo punto questi vettori qua sono i vettori dei volumetti e io devo integrare su tutti questi vettori dalla iesima alla geiesima alla capesima ok? quindi io scrivo così ρ r' questo diventa un volume r' questo è il volume di questo punto qua che indico come r' per distinguerlo io non voglio più portarvi i reti pedici ovviamente notate come l'ho scritto cioè questo è il volume che si trova dove? nel punto r' ok? quindi per quello ho il pedice qua tra apice e l'apice più c e prima di lasciarvi andare devo, devo, devo perché lo devo fare portate la pazienza un minuto questo abbiamo appena scritto il potenziale elettrostatico di una distribuzione nello spazio volumetrica diciamo di carica in elettrostatica in elettrostatica quale sono le equazioni elettrostatiche di v? l'equazione elettrostatica di v è il laplaciano uguale meno ρ diviso y0 questo è un tubero ma in questo tubero abbiamo portatore di carica in movimento in questo volumetto qua in questo punto dello spazio immaginate che c'è una densità di corrente j in questo punto dello spazio in questo punto dello spazio immagino una scatola attenzione, una scatola piazzata dunque col vettore posizione rj immaginate che qua ci sia una densità di corrente j ok? queste densità di corrente questa corrente che sta fluendo a livello microscopico portatori che vanno là creano un campo magnetico e voi sapete che il campo magnetico sarà espremibile così in termini del potenziale vettore io voglio sapere qual è il potenziale vettore nel punto p allora cosa faccio? mi sparo un colpo di testa? mi alzo e torno un altro appello? oppure uso la testa? perchè in magnetostatica se io scelgo questa condizione ausiliaria se scelto perchè non è una se ma chissà se io posso sempre farlo scelto di imporre è una scelta libera ma facendola quale sono le equazioni della magnetostatica? diventa il laplaciano il laplaciano di A uguale a meno mu zero j in particolare la coordinata x di questo perchè sono tre equazioni ho il laplaciano di A x uguale meno mu zero j x e noto la identica struttura matematica quindi deduco perchè sono una persona intelligente e voi lo siete vedete che se questo è il potenziale autostatico che soddisfa questo allora io so scrivere subito il potenziale vettoriale la componente x che soddisfa questo popale popale con le debite traduzioni la componente x del vettore potenziale vettore è uguale a guardate qua c'è un 4 pi greco del denominatore io vedo 1 su 4 pi greco qua c'ho la 1 su y zero qua c'ho la rho quindi se c'ho 1 su y zero qua ho la rho la mu zero ok? sto facendo la traduzione e l'ho ovvia traduzione che questo diventa x non vi pare e c'è un'altra cosa che quello che è la rho qua diventa la j la jx vedete? e quindi la scrivo con la tabella di conversione e allora questo è la componente y e la componente x e la componente y cosa sarebbe? l'equazione sarebbe così Quindi non fare altro che mettere y qua, y qua Guarda Qual è il messaggio? Fate tesoro della matematica Una volta che l'avete capita in un contesto Forse riuscite a riciclarla E quando potete farlo fatelo Fatelo Ci vediamo alle 2 Grazie 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 Grazie